e non vi ho ancora mai parlato dell'alfa romeo spider 1972 detto duetto 1.6 bi albero alfa una macchina carina veramente a posto con la sua capottina adesso la tiriamo giù appena appoggiata evidentemente ritargata negli anni 80 targa rossa la prima targa era nera comunque era sempre targata roma appoggiata giusto per la sgancia anche di la maggio così ecco gli interni questa radio va probabilmente prima o poi la leverò e farò rifare un po il cruscotto lì perché non mi piace tanto però insomma gli interni sono in ottime condizioni conservati mentre all'esterno si vede è stato restaurato il volante è il bor in legno cambio 5 marce strumentazione levettine levette sportelli pannelli anche questi due altoparlanti funzionano malissimo per tenere una radio in quella maniera meglio non tenerla è una macchina che secondo me ha sempre un suo perché pur non essendo una gran sportiva perché non è che stia benissimo in strada però è una trazione posteriore un 1.6 questo del 72 è la serie è venuta subito dopo l'osso di seppia ed è uno dei primissimi esemplari costruiti quando ci avevano ancora più cavalli perché poi dopo a seguito della crisi del petrolio diminuirono la potenza dello stesso 1.6 bialbero è una macchina che secondo me fa veramente divertente non ha il valore ovviamente del del buon osso di seppia però è sempre una seconda serie sanissima ho preso una botta lì sull'angolo del paraurti ma prima che la prendessi io vi faccio vedere il motore anche esso è stato completamente restaurato è finito da pochissimo ci avrà mille chilometri ma io ne ho fatti veramente meno eccolo qua capolavoro di alfa romeo meraviglia delle meraviglie motore che c'ha un tiro straordinario un rombo una goduria veramente immensa vediamo anche un attimo il bagagliaio specchietto marcato eccolo qua tengo dentro un giacchetto un estintore per sicurezza boh andiamo a fare ma che segura una macchina divertente di nulla cazzo non frena nemmeno bello senti come canta di via albero alfa e e e e e e e la trazione posteriore pericolosissima questo metro treno così scarico c'è solo quel bagagliaio molto leggero da stare molto attenti ma dove si dà gas in curva si fa presto a rigirarsi però il mezzo è straordinario macchina meravigliosa di grande e minime a non fermarti più io ho detto di girare l'amore spacca il cuore spara, spara, spara poi la, la, la una macchina dell'epoca militare C'è la la exhale lo amici è giusto l'amore gli amici lo sanno lo sanno gli amici i Sì nooo sta schipa a Vienna ci hanno tutti i soldi io mi trovo questo caprame targato Vienna che cazzo diciamo che il freno abbiamo una colora grossa chiamarlo freno è un rallentatore arrivati?